Novità importanti sul futuro del Sulmona Calcio. Il presidente Maurizio Scelli è in procinto di raggiungere un accordo con un gruppo di aziende romane che fa capo ad una holding. Top Secret il nome, visto che sono in corso gli ultimi dettagli che dovrebbero definirsi entro la fine di questa settimana. Ci sarà così un allargamento societario che permetterà di avere garanzie per la Serie D, ma si agirà anche nel segno della continuità, in quanto il presidente Scelli annuncia con soddisfazione che rimarrà il direttore generale Giorgio Bresciani. E ammirevole e commovente, afferma l'attaccamento dimostrato da Bresciani verso la nostra città. Il gruppo che si appresta ad entrare si trova in perfetta sintonia con lui e l'ingrediente giusto per ripartire. Scontata dunque l'iscrizione al campionato, come sarà affrontata la Serie D? Faremo una stagione di primissimo livello per vincere. A me non piace restare a guardare. Fa gola la Serie C unica che si avrà dal 2014. Noi vogliamo starci, perché già sogno il derby con l'Aquila. Altre informazioni sulla cordata laziale. Si tratta di un gruppo che nel passato ha gestito una squadra di C1. Costituirà, prosegue Scelli, un notevole potenziale in quanto ci sono persone di grosso spessore. Mi rammarica soltanto che il sostegno arriverà ancora una volta da fuori e che da Sulmona non è pervenuta nessuna risposta ai vari appelli fatti in questi mesi caratterizzati da un lavoro in silenzio, ma che ora sta per produrre risultati positivi. Maurizio Scelli, nonostante tutto, si auspica comunque che strada facendo qualche imprenditore locale si possa avvicinare perché la porta è aperta, dice, in quanto più siamo meglio è. In queste settimane ho dialogato con diverse persone di alto profilo disposte a darci una mano e gli interessati sanno di chi sto parlando. Non vogliamo pertanto disperdere nessuno perché abbiamo bisogno di tutti. Già si pensa nel frattempo come dovrà essere la squadra. Si partirà dalla base dello scorso campionato, che ha trionfato in eccellenza, per integrarla con alcuni innesti, al fine di dare maggiore qualità ad un gruppo che già costituisce una risorsa importante. Se c'è qualcosina di economico da sistemare con i giocatori, aggiunge, verrà presto fatto. Entro la fine di luglio sarà zerato tutto per ripartire in attivo. Si attende dunque l'ufficialità dell'ingresso dei nuovi soci per definire gli assetti dirigenziali e tecnici. E poi si incomincerà di nuovo con Bresciani e per vincere il campionato. La mia, ha concluso Shelly, sarà dall'inizio una guida temporanea. Dopo che la macchina sarà partita speditamente, lascerò andare avanti gli altri.